Una fiamma al giorno, energie dell'8 di aprile, scegliete la vostra variante, grappolo verde, grappolo azzurro e grappolo rosso, chiediamo ai nostri angeli che intervengano in questa stesa per darci l'energie dell'8 di aprile, vediamo un po' grappolo verde, ambition, oggi avrete l'energia dell'ambizione, sarete portati a superare voi stessi e a esprimere il vostro talento al massimo, vediamo un po', a dire il vero, ecco questo avverrà attraverso una comunicazione emotiva, aprirete il vostro cuore a qualcuno e sentirete anche il desiderio di esprimere quello che pensate e quello che desiderate in modo da poter appunto un pochino portare energia a questa vostra ambizione che cerca proprio di uscire e di manifestarsi, vediamo un po', sì tutto questo farà in modo che verranno, arriveranno delle occasioni, anche proprio destini, che qua c'è l'energia dei mondi spirituali che entra nella materia, crea e da e crea, quindi ci saranno delle possibilità per creare, per dare occasioni alla vostra ambizione, al vostro talento. Grappolo azzurro, co-creare, oggi ci sarà proprio un'energia materica molto forte di costruzione, di co-creazione, quindi ascoltate i vostri desideri, il vostro cuore e mettete in pratica quello che sentite di dover creare appunto e infatti guarda qua, co-creare, co-creare, mamma mia che energia fortissima di co-creazione, l'anima diventa materia, cercherete appunto di, ci riuscirete di mettere in pratica quello che sentite, sarà un successo enorme e infatti questo farà in modo che inizi una nuova, grandiosa direi, fase della vostra esistenza. Grappolo rosso, humor, qua c'è un'energia di vibrazioni molto alte che provocherà cambiamenti e sarà anche comunicata, c'è un'energia di cambiamento e di comunicazione, un'energia molto alta di benessere e felicità che sentirete proprio soprattutto e comunque non solo, ma soprattutto in questa grande giornata e questo vi porterà a un equilibrio interiore, farà in modo che queste energie di alta vibrazione vi conducono proprio ad ascoltare e a mettere in relazione il mondo spirituale con il mondo materiale, quindi sarete un mezzo per creare questa unione meravigliosa. Vediamo un po', sì, in questo avrete proprio anche il sostegno dei mondi spirituali, il sostegno degli angeli.